Musica Amici di AtSport24 bentornati Nuova puntata di 2 metri la palla a nuoto vista da vicino Ci occupiamo oggi di serie 1 maschile Anche se il calendario gli ha proposto un turno di riposo nella seconda giornata del round scudetto Andiamo in casa del Telemar Palermo per commentare le ultime importanti novità E non potevamo non farlo che con il massimo dirigente del club siciliano Do l'affettuoso bentornato a Marcello Giliberti Presidente bentrovato, è un piacere di averla in nostra compagnia Buongiorno Andrea, grazie per l'invito Come sempre graditissimo E allora parlavo proprio di importanti novità Andiamo subito nel vivo Il Telemar compie un passo fondamentale per la costruzione di un futuro stabile e duraturo E come tutti gli appassionati palermitani si auspicano vincente Prolungando per due anni l'accordo con mister Gubaldinetti E la metto proprio così La soluzione della continuità è la carta vincente del nuovo progetto? Assolutamente sì, diciamo che era una cosa sulla quale avevamo già avuto confronti ripetuti con Gubaldinetti da tempo Aspettavo io alcune certezze soprattutto ricollegate agli impianti perché a Palermo abbiamo una situazione un po' particolare La piscina olimpica comunale straordinaria, bella, dotata di doppia vasca di proprietà e gestione comunale Andrà incontro a degli importanti lavori finanziati con i fondi di cui ha il PNRR Abbiamo avuto sveriati incontri con il sindaco Roberto Lagalla, con l'assessore Sandro Anello Che hanno garantito non soltanto al TELIMAR come realtà di punta nello sport diversi palermitano e la pallannuoto Ma tutto il movimento natatorio cittadino e anche alla collettività in generale La continuità nell'apertura dell'impianto Quindi indipendentemente dalla calendarizzazione che daranno i lavori Fra le due vasche di cui è dotata la piscina olimpica comunale di Palermo Un'eventuale vasca da andare a installare prefabbricata in maniera provvisoria Verrà garantita continuità all'attività In aggiunta a questo negli ultimi mesi noi abbiamo svolto una serie di sedute di allenamento Per decongestionare comunque la piscina olimpica comunale in cui è stata aperta una sola vasca Siamo appoggiati a Terrasini dove c'è un bell'impianto, proprio un impianto di pallannuoto Una squadra 33 per 25 dove siamo andati spesso Lì stanno ultimando dei lavori Ho parlato anche lì col sindaco Giorgio Emaniaci Che ha garantito anche lì piena disponibilità ad ospitarci E' il grande piacere ad avere nel loro contesto stabilmento Cosinalmente si capirà la squadra della città metropolitana di Palermo Di vertice qual è la nostra Dopo aver avuto queste rassicurazioni che erano fondamentali Perché è inimmaginabile sviluppare e portare avanti un programma totale Come quello che l'ho soltanto da una parte supportata a Baldietti e all'altra Vuole portare avanti Abbiamo perfezionato l'accordo con Gu Che comunque era nelle corde In considerazione del fatto che questi 4 anni in cui abbiamo portato avanti Un programma di alto livello Sono stati di enorme gratificazione per entrambi Di grande e progressiva sempre maggiore sintonia In che misura le rassicurazioni delle istituzioni hanno inciso Su una scelta che io mi permetto di definire così importante Perché se poi andiamo a scandagliare il panorama nazionale Parliamo di uno dei migliori tecnici Personalmente mi permetto di inserirlo nella mia top 4 Sì, concordo sull'inserimento della classifica top Fra i tecnici di Gubaldinetti Ha inciso molto, proprio per la ragione che dicevo Un programma basato su un lavoro quotidiano Finalizzato al perfezionamento della preparazione fisiologica Ma anche di quella tecnico-tattica Non può prescindere dalla disponibilità degli impianti Quindi questo è stato il primo punto L'altro punto fondamentale è stato quello di Capitalizzare la fidelizzazione Che è questo tecnico Perché come lui ha dichiarato Ha fatto una scelta di cuore Nel confermare la sua presenza su Palermo È quella di dare una progettazione un attimino differente Nel senso che anche a seguito della pandemia In funzione della necessità comunque di conclamare Un salto di qualità Noi abbiamo negli ultimi anni utilizzato sempre un parterre di giocatori locali Che vanno dallo storico capitano Cicciolo Cascio Davido Occhione, Andrea Giliberti, Riccardo Odico ed altri Però abbiamo preso tanti top player da fuori Rallentando un attimino il graduale inserimento in prima squadra Di giovani provenienti dal nostro vivaio Complice dicevo anche alla pandemia che ci ha rallentato molto In questa nuova programmazione per il prossimo biennio Avendo ormai consolidato uno standard Che ci consente Avendo uno zoccolo duro Locale che è cresciuto Di andare inserendo degli altri giovani locali Quindi ecco la differenza rispetto al passato è che Certamente ci avvanteggeremo di qualche top player Che pescheremo da fuori Ci sarà qualche partenza, qualche nuovo arrivo Però daremo spazio a giovani locali Per andare a rinverdire la rosa E risintonizzare con un DNA Sempre più marcatamente locale Il roster Perché è un momento in cui certamente Questo è il tipo di approccio Da andare a dare E cosa si può fare di meglio di questo Avendo un tecnico come Valdinetti a disposizione E io sottolineo proprio questo Quanto è importante per la crescita dei giovani palermitani Lavorare come dicevamo già Con uno dei migliori tecnici del panorama Io dico sia dal punto di vista tecnico-tattico Che poi carismatico e motivazionale Perché per un ragazzino Per un 18enne, un 17enne Che si approccia alla prima squadra Credo che maestro migliore Forse non possa esserci Sì, sì, no Tu hai descritto bene lo scenario Il salto di qualità Da questo punto di vista È stato dato Dal fatto che Gu stesso Ha con grandissima serenità E con grandi motivazioni Condiviso questa riprogrammazione Che la sua età ha posto in essere Per i prossimi due anni Lui sa di poter mettersi a disposizione Di questi giovani Per farli crescere in maniera importante E questo secondo me è fondamentale Perché in passato Questo tipo di serena disponibilità Era più restito a darla Perché preferiva Ma lo capisco pure Perché diciamo Il livello tecnico-sportivo Qui a Palermo era molto basso Per cui non poteva poggiare Sui giocatori Con limitata esperienza E si è voluto affidare A top player Di cui ora certamente Avremo sempre bisogno Di qualche top player da fuori Ma ne potremo via via Sempre più fare a meno Perché il contesto locale Comunque è cresciuto Per i ragazzi Non c'è strada migliore Di affidarsi a Gubaldinetti E devo dire Che questo è Motivo per noi Come società Come club Di grande credibilità Rispetto ai nostri stessi programmi Perché se noi Siamo arrivati A lanciare la società Su questo livello Stiamo parlando Del fatto che ormai stabilmente Siamo fra le prime Cinque società Attualmente siamo al quarto posto Non so se Finiamo quarti Quinti, sesti Ma non è questo Il problema Siamo in altissima classifica In Italia Ricordiamo che Soltanto 15 giorni fa A Doha Abbiamo vinto Il titolo di vice campioni mondiali Quindi in realtà Un pallannuoto Diversi A livello mondiale Essere stati lanciati a questi livelli Avrei assicurato due anni fa La Lenne Euro Cup La conquista della Lenne Euro Cup Arrivare nelle fasi avanzate Anche quest'anno Della stessa Lenne Cup È stato possibile Grazie a questo tecnico Per cui È certamente Motivo di certezza Per noi come società E per i giovani Che abbracciano Questo programma Di questi due anni Il potere Ambire In prospettiva Una crescita Importante Che li può Conclamare Come Principale Protagonist In un roster Di serie 1 Come il nostro Chiudo con l'ultima battuta È iniziato Nel migliore dei modi Il percorso Nel round Scudetto Che peso specifico Assume per il vostro percorso Il blitz In casa della De Hacker Fondamentale Fondamentale Per diverse ragioni Una Perché eravamo Molto a rischio Arrivando a questo match Soltanto Con due giorni alle spalle In cui il gruppo Aveva lavorato Nuovamente Tutto insieme Abbiamo In mezzo I mondiali E abbiamo perso Per due mesi E passa I nostri due americani Uper e Buded Che sono stati Fra i protagonisti Della missione americana I mondiali Li abbiamo ritrovati Qui dal lunedì Antecedente Il match del sabato John Uper Che ha dovuto Recuperare Un piccolo fastidio Che aveva Con una fisioterapia Fatta in casa Il solo giovedì Quindi due giorni prima Siamo rientrati Col gruppo totale Al lavoro Abbiamo rischiato E si è visto Nella prima parte Della partita In cui siamo andati Sotto Con grande sofferenza Poi però La determinazione Del tecnico Che riesce sempre A trasferire sul gruppo E il livello tecnico Indubbio Di taluni Dei nostri giocatori Ha fatto sì Di essere in condizioni In grado Di resistere All'onda d'urto Del Bologna Che ha credito Bene la partita E l'ha impostata Anche al puntista Tecnico Tattico In maniera Molto intelligente E alla fine Di metterci avanti E di controllare Negli ultimi minuti Con due gol di vantaggio E chiudendo Tanto con uno sopra È stato fondamentale Resistere Portare i tre punti A casa Perché ci mette In condizioni Di guardare Questo round scudetto Con la giusta serenità Considerato che Ci saranno dei match impossibili Mi riferisco a quello Sicuramente in trasferta Corretto A quello col Savona Dove chiaramente Ci andremo a giocare Tutte le nostre carte Ma è un match Difficilissimo Dove sarà difficile Fare punti Per cui prendere Questi tre punti E mantenere Sotto Il Trieste E lo stesso Bologna È fondamentale Per una classifica Generale finale Se non avessimo Fatto questi tre punti Al di là Al di là del fatto Ci sarebbero mancati I tre punti stessi Saremmo probabilmente Andate in conto Una serie di reazioni Al puntista Mentale Psicologico Non facilmente superabili Considerato che I prossimi incontri Saranno veramente Proibitivi Va bene Siamo così Al termine Di questa chiacchierata Ringrazio come sempre Il Presidente Giliberti Per la sua disponibilità Do appuntamento Ai nostri spettatori Per la prossima puntata Grazie Presidente Grazie a voi Alla prossima Ciao Andrea Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi